Buongiorno a tutti, grazie per l'invito a partecipare a questa edizione degli Stati Generali della Green Economy, un'edizione molto importante che cade in un anno particolare. Ci attende Parigi 2015, che sarà un momento di confronto internazionale decisivo sulla strada della lotta al cambiamento climatico. Questi Stati Generali si svolgono alla vigilia di Parigi 2015 e pongono sul tappeto alcune tematiche fondamentali sulle quali dobbiamo costruire una convergenza a livello internazionale e dobbiamo anche potenziare le politiche nazionali in vista di uno sviluppo economico ambientalmente sostenibile, una nuova qualità dello sviluppo economico. Mi scuso di non essere con voi oggi di persona, impegni istituzionali mi hanno trattenuto a Roma, ma ci tenevo a comunque essere presente attraverso questo messaggio che vorrei prima di tutto centrare sul fatto che abbiamo adottato alcune misure in questi anni e soprattutto nell'ultima legge di stabilità, alcune misure che vanno nella direzione auspicata dalle raccomandazioni del Consiglio Nazionale della Green Economy, nel documento che voi discutete negli Stati Generali, alcune misure concrete che segnalano un'attenzione del Governo allo sviluppo della Green Economy. Penso in particolare da ultimo, in legge di stabilità, il prolungamento dell'eco bonus per la riqualificazione energetica degli edifici privati, le risorse destinate alla riqualificazione delle scuole e di altri edifici pubblici a valere sui fondi europei, gli incentivi alle imprese per progetti di efficientamento energetico ed eco-innovazione, gli strumenti di supporto per le start-up e le PMI. Una serie di misure che traducono in pratica un approccio che era stato definito già nella strategia energetica nazionale, un documento che noi riteniamo molto importante perché ha dettato una linea complessiva in materia energetica che apre la strada proprio alla strategia europea, si connette con la strategia europea del pacchetto clima-energia. Sono quindi misure specifiche che però stanno dentro una strategia complessiva. Sottolineo alcuni altri interventi. Intanto il governo, in particolare il Ministero dell'Ambiente, promuove l'uso di strumenti di mercato come il Green Public Procurement, dove appunto il procurement deve essere basato su premiare prestazioni ambientali dei prodotti. Ancora, in legge di stabilità abbiamo previsto un fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine, attrezzature agricole. Una dotazione del Ministero dell'Ambiente per il triennio 2016-18 per la promozione di misure di Green Economy. Tutto questo, ripeto, all'interno di una strategia complessiva di cui sono parte anche il decreto legislativo che applica la direttiva in materia di efficienza energetica, il decreto ministeriale che è alla valutazione della conferenza Stato-Regioni sta in materia di energie rinnovabili per una nuova tranche di incentivi che utilizzando gli incentivi liberati dall'uscita di alcuni impianti li rimette dentro il finanziamento delle energie rinnovabili e quindi mantiene un processo di sviluppo delle energie rinnovabili coerente sia con l'obiettivo al 2020 sia con gli obiettivi che l'Italia ha sostenuto in sede europea per il 2030. L'uso dei fondi strutturali. Qui abbiamo alcuni programmi della programmazione 14-20 che abbiamo costruito proprio pensando ad un utilizzo dei fondi per sviluppare settori prodotti della Green Economy. In questa direzione vanno anche i patti per il Sud. Stiamo costruendo nel dialogo con le regioni e le città metropolitane 15 patti con le 8 regioni del Mezzogiorno e le 7 città metropolitane del Mezzogiorno, 15 patti che devono avere come asse prioritario una ripresa dell'economia attraverso interventi infrastrutturali e di politica industriale volti a promuovere esattamente una crescita ambientalmente sostenibile. Lo sviluppo della Green Economy sarà al centro anche, è al centro dei patti per il Sud che stiamo costruendo con le 8 regioni del Mezzogiorno e le 7 città metropolitane. Vogliamo con i patti per il Sud prendere impegni precisi per una ripresa dell'economia meridionale ambientalmente compatibile. Ci saranno interventi che avranno al centro tematiche come la lotta al dissesto idrogeologico, il potenziamento dei sistemi idrici, pensiamo uno per tutti al tema della depurazione, ma non solo, le perdite delle reti e così via, lo smaltimento dei rifiuti in forme ecologicamente innovative, il recupero e la riqualificazione delle aree contaminate per riavviare attività produttive e industriali che siano ora finalmente basate su un nuovo rapporto con l'ambiente e che ci consenta anche questo, utilizzando quelle aree, di limitare il consumo di suolo libero, uno dei temi su cui voi più insistete nelle raccomandazioni del Consiglio nazionale. Ripeto, si tratta di singoli interventi che però stanno dentro una strategia complessiva che è quella che porta l'Italia a battersi per il raggiungimento degli obiettivi del pacchetto Clima-Energia, non solo al 2020, ma il nuovo pacchetto Clima-Energia al 2030, la roadmap della decarbonizzazione. Ci sono alcune tematiche che voi ponete nelle vostre raccomandazioni e che richiederanno una riflessione di prospettiva e sarà molto importante il confronto con le associazioni che si ritrovano negli stati generali della Green Economy per mettere a fuoco questi temi. Due, vorrei sollevarne a conclusione di questo mio intervento. Prima di tutto, voi ponete correttamente il tema di una semplificazione degli iter procedurali in tema di autorizzazioni. Questo è un punto molto importante, il governo è molto impegnato su questo, perché noi riteniamo che iter più semplici, procedure più semplici, siano anche più trasparenti e più controllabili. l'accumularsi di passaggi burocratici, di regolamenti e così via, spesso è quello che consente, dove spesso si annida invece la possibilità di violare le regole, non di applicare le regole. Da questo punto di vista, connesso con l'esigenza di snellire e le procedure autorizzatorie, c'è anche il tema che io ritengo molto importante, che è quello di adeguare fino in fondo il nostro Paese alla normativa europea. Da questo punto di vista segnalo, per la riflessione che poi, il confronto che poi faremo insieme, il tema del gold plating. Noi dobbiamo superare questa abitudine, noi alle volte aggiungiamo regole e vincoli al di là di quello che la normativa europea, che pur è la più avanzata del mondo, pone in materia ambientale. Anche qui, guardate, non è che rendendo più difficili le opere si evitano i danni all'ambiente. In certi casi i danni all'ambiente si evitano proprio facendo le opere. Pensate per esempio al tema del risanamento idrogeologico, al ruolo dei sistemi idrici o nel campo dei rifiuti al ruolo dei nuovi impianti di trattamento, di gestione ecologicamente compatibile dei rifiuti. Il secondo tema che vorrei porre in conclusione riguarda l'attenzione al fatto che dobbiamo promuovere il raggiungimento degli obiettivi del pacchetto clima-energia 2030 promuovendo contemporaneamente la competitività dell'industria europea. Qui c'è un equilibrio da trovare, non abbiamo la bacchetta magica, però sappiamo che se non lo troviamo produzioni saranno delocalizzate dall'Europa in altre aree del mondo dove le normative ambientali sono meno rigorose e il risultato sarà un aumento complessivo dell'inquinamento che va contro la strategia della decarbonizzazione. Quindi è un interesse ambientale mantenere in Europa produzioni che rispondano a standard ambientali europei perché questo è un interesse per l'Europa e per il mondo intero. Ripeto, non c'è la bacchetta magica ma anche qui c'è un confronto forte da fare tra di noi per individuare le linee di politica economica che ci consentano di raggiungere questo obiettivo. In conclusione, grazie ancora di questa possibilità di interlocuzione avremo modo di riaprire tra di noi presto il confronto. Parigi 2015 è un momento essenziale, è un passaggio essenziale. L'Italia si presenta a Parigi 2015 con le carte in regola. È un paese che sta raggiungendo e già ha raggiunto in molti settori in anticipo gli obiettivi del pacchetto 2020. È un paese protagonista della roadmap europea della decarbonizzazione, della costruzione degli obiettivi al 2030. È un paese che in Europa sta svolgendo una funzione importante, quella di promuovere il raggiungimento degli obiettivi ambientali e insieme promuovere un nuovo sviluppo economico, una nuova crescita europea. Questo ruolo dell'Italia è un ruolo fondamentale perché è insieme politica ambientale e politica industriale. È ciò che rende realistici gli obiettivi di avanzamento ambientali che l'Italia e l'Europa vogliono raggiungere e che fanno dell'Italia e dell'Europa l'avanguardia nel mondo. Grazie a tutti voi e buon lavoro.